Cancelletto due rider in pista per la categoria G1 e vediamo con la maglia del team BMX, grazie, c'è il numero 855, Tommaso Turetta per il 48R BMX Team Mirivignano con il numero 922, Luca Chiendetti. Andiamo così con i rider della categoria G1 finale B all'ingresso del terzo rittilineo Team BMX, grazie, con Tommaso Turetta in prima posizione, 48R BMN con Luca Chiendetti per la seconda posizione, siamo con il BMX, grazie, Tommaso Turetta e l'applauso del pubblico di Rimivignano per questa prima finale B categoria G1, grazie. Grazie